Stavolta l'impegno dell'assessore regionale all'energia Alberto Piero Bonna ha avuto per fortuna l'esito sperato nell'ambito dell'atteso provvedimento adottato dal Governo della Regione per l'utilizzo dei fondi contenuti in un apposito piano operativo del Ministero dell'Ambiente in favore del potenziamento degli impianti per la lavorazione dei rifiuti, infatti, è stato inserito anche il centro di compostaggio di Contrada Santa Maria di Sciacca. Impianto al quale sono stati destinati 2.422.000 euro di somme necessarie a raddoppiare la capacità produttiva con l'intervento finanziato si passerà infatti dalle attuali 14.000 alle 28.000 tonnellate l'anno di rifiuti. Il progetto esecutivo è già disponibile, fu commissionato dalla Soger gestione impianti l'attesa adesso è tutta rivolta solo alla necessaria gara d'appalto che dovrà essere espletata prossimamente e per la quale si confida in tempi celeri e magari anche nell'assenza di ricorsi e contro ricorsi che giocoforza rallentano puntualmente tutte le procedure. Quello che riguarda il centro di compostaggio di Santa Maria è un investimento di fondamentale importanza per la gestione di un settore, quello della spazzatura, che soprattutto nei mesi scorsi ha visto a più riprese l'impianto in questione, dover alzare bandiera bianca per avvenuta saturazione con le biocelle tutte piene, con numerosi turni di raccolta dell'umido differenziato che sono inevitabilmente saltati, facendo saltare al tempo stesso anche i nervi degli utenti oltre che quelli degli amministratori. Questione che aveva fatto più volte ipotizzare la possibile dotazione di un impianto di compostaggio mobile per fronteggiare l'emergenza, cosa che poi però non è stata più fatta avendo gli amministratori preferito puntare essenzialmente proprio su questo investimento quello licenziato dall'assessore Piero Bonn. Un impianto di compostaggio, quello di Santa Maria, che se nel corso degli anni è reso di fatto indipendente la gestione dei rifiuti di Sciacca e di altri 16 comuni dell'ex ambito territoriale ottimale ha poi messo al tempo stesso in evidenza tutta la sua vulnerabilità cosa accaduta soprattutto a partire dal periodo estivo quello nel quale, in considerazione del combinato disposto dell'interesse turistico che il territorio può vantare e del conseguente aumento della popolazione anche la produzione di spazzatura subisce un incremento importante cosa questa che ha più volte permesso di scoprire la sprovvedutezza di un ciclo di rifiuti che oltretutto ancora non è riuscito e anche per altre ragioni a partire da quelli finanziari a far entrare definitivamente al regime il piano aro approvato appena pochi giorni fa la possibilità di un centro di compostaggio più ampio e capiente permette dunque di guardare al futuro con maggiore ottimismo rimane da risolvere però il problema dell'atteso implemento di un altro impianto stiamo parlando della discarica di Saraceno Salinella che è autorizzata ancora solo a ricevere sovvalli mentre l'obiettivo rimane quello di avere una disponibilità più completa per i rifiuti indifferenziati